Musica Ciao ragazzi ben ritrovati di nuovo sul mio canale Eh sì ragazzi oggi buona Pasqua a tutti e voi e le vostre famiglie È passato un felice giorno di Pasqua con i parenti, in famiglia ragazzi Ma torniamo con il nostro Peppino supermeccanico molto richiesto da voi ragazzi Non sapevo più come portarlo, poi mi sono organizzato e ho detto Ma io lo porto a questi ragazzacci un po' Allora ragazzi torniamo sulla superofficina che mancava un po' da tempo Intanto, ai ai ai, ho fatto malissimo Che mancava un po' da tempo qui di Peppino che mancava Vabbè ragazzi è preso le vacanze, mo c'è anche Pasqua quindi Però lui si vuole, lui anche nel giorno di Pasqua È un tipo che lui vive per lavorare Quindi si deve anche sporcare le mani signori Ma quindi, mo oggi andiamo a investire un po' di soldi su quest'auto Che avevamo comprato tanto tempo fa ragazzi, la dobbiamo liberare Dobbiamo cominciare perché dobbiamo produrre, dobbiamo vendere E qua perché Peppino servono i soldi Ragazzi ma prima di cominciare, grazie per il supportazzo che mi state dando Ragazzi messo un pollicione in su mi raccomando Per supportare il canale serie E soprattutto ragazzi, iscrivete al canale Attivate la campanella e non perdevi mai nulla In descrizione tutti i link sono gratuiti Non vi costa nulla fare click e clock Detto questo ragazzi Bando alle ciance Allora, avevamo comprato quest'auto qui Questa auto qui ragazzi Qualcosina già avevamo cominciato a rimettere Prima qua non c'era proprio niente Abbiamo dovuto ricomprare proprio tutto, tutto da zero Ci abbiamo investito sui 12-13 mila euro già Qui sopra Poi è vero ragazzi, la carrozzeria Avevamo anche ricominciato a rimettere un po' di parti idrauliche Di sospensioni, eccetera, eccetera, eccetera Però ovviamente ragazzi la macchina deve ancora essere completata Vediamo un po', se mi ricordo cosa mancava ancora da comprare Avevamo fatto un grosso lavorone Per chi si fosse perso la serie dei video precedenti di Peppino Che ha cominciato ad assemblare quest'auto Che avevamo comprato allo sfascia carrozze Ragazzi, quindi È un bestio Allora, qua ci mancava Vabbè, l'olio del refrigerante perché mancava, è vero Ehm, mancava la Ehm, il radiatore Mi sa che mancava solo il radiatore da comprare E vabbè, allora ragazzi Cominciamo a investire Intanto segniamo Alla nostra lista Roba da comprare Poi cosa mancava? Vabbè, il tubo di scarico l'avevamo messo Ehm, la pompa del carburante E diciamo ragazzi La macchina Parte idrauliche e meccaniche Ma manca poco Manca solo il Il radiatore Ragazzi, l'andremo andare a comprare Proprio, subito, subito Negozio principale Ehm, radiatore E vabbè, dobbiamo pulire anche La nostra lista Perché c'è rimasto Un po' di De roba segnata del lavoro In precedenza Ehm, allora Ehm, sì, Peppi però Ehm, ogni tanto Peppino però Cioè Allora, radiatore Lo montiamo Vai Ah, pur la ventola mancava Ehm, questo dobbiamo comprarlo Ehm, che facciamo? Non compriamo? Non so se ce l'ha qua però Sì, ce l'ha Eh sì ragazzi I soldi Poi non Poi vediamo se ce la possiamo vendere Non l'ho mai fatto qui Quindi Peppino Non so dove si Posso vendere quest'auto qua ragazzi Però noi abbiamo Sì, è il negozio di là Cioè, abbiamo tutto comunque da Ma vediamo Vediamo un po' come Ok Ehm, serbatoio e radiatore Lo possiamo Ehm, riempire Quindi facciamo così Ehm Possiamo riempirlo Dov'è? Aspetta come si faceva Ok Ci mettiamo il liquido Così a meno anche il liquido del refrigerante È a posto Quindi poi facciamo Quindi tutti i liquidi Serbatoio e radiatore È montato tutto Boh, dobbiamo vedere che gomme Ci vogliamo montare però Ok, va bene È così Allora Le gomme Le gomme Le gomme Ragazzi Allora, le gomme Io non so che gomme Ci vanno però Ah, le pastille Mi sa le pastille L'avevamo prese? Sì L'avevamo già comprate? L'avevamo già comprate Perfetto Allora Avevamo già comprato qualcosina Sì, infatti mi ricordo Che un po' di spesa L'avevamo fatto Vabbè Segniamoci I pneumatici Intanto Andiamo pure qua Cominciamo a rimettere anche un po' di roba Ma per fortuna Un po' di roba Vabbè raga Ma Peppino Già sta avanti Già ci aveva pensato No Eh A meno anche nel giorno di Pasqua Non vi fa stare da soli Peppino No L'altra ruota di qua Eh sì Dai a meno ragazzo La togliamo un po' dalle scatole Sta macchina Vediamo pure come funziona Il fatto è che se funziona Poi ragazzi C'ho in mente Anche di progettare Un bel motore da zero Che quello sarà ancora più difficile Però Ci proveremo A montare un motore da zero Allora Vai Altri pinze E adesso andiamo a comprare Le gomme Ragazzi Allora le gomme Andiamo sempre al nostro computer Peppino ma ne è proprio una cima Con la tecnologia Però Fa quello che può ragazzi Fa quello che può Allora le gomme Ce ne servono Eh però Aspetta Che lunghezza ci serve Non me lo dice Che lunghezza ci serve Però Giusto C'è la misura Però Per vederlo Possiamo andare qui Per vedere Facciamo Il stato della vettura E vediamo Che gomme monta Se me lo dice Dimensioni fabbrica Il primo 185 65 Quindi Ok Quindi da 15 Quindi 185 65 R15 Ok 185 65 Allora Ce ne serve 4 Quindi Allora Dimensioni 15 185 65 75 700 Euro Ci costano Le gomme Ragazzi Però Vabbè Vediamo se Non abbiamo sbagliato A comprare No Ok Perfetto Quindi Ok Andiamo a montare Le gomme Monta E non ci sono niente Di cui lavorare Addirittura Ah si Giustamente Ci servono I cerchioni Giustamente I cerchioni Qua Ce lo dice No Non so Se ci dice Dimensioni Dei cerchioni Tipo di cerchio Di fabbrica Cerchione Classe 006 Ok Classico 006 Quindi Non so se Sto fa un macello Sto fa Mi sta per di mano Non so se Il negozio Di Vende anche No Qua vende solo gomme Scusa E i cerchioni Dove li compro Forse qua No No Negozi Accessori No Cerchioni Madonna Ragazzi Sta proprio là Allora Classe Allora Vediamo un attimo E qua ci dobbiamo ricordare Ragazzi Perché è un macello Allora Cerchione Classico 006 Quindi Cerchione Quindi Classico 006 Dobbiamo scrivere Classico 06 Eccolo qua Pure qua Dimensioni 15 Che la gomma È 15 Ehm Non so Questo Quantità 4 Ehm Dimensioni 15 Da 15 È 0 Vabbè Raga Proviamo Poi nel caso Nel caso Vediamo se Giusto Vediamo un po' Di modificare qualcosa Purtroppo le gomme È complicata No Sono queste ragazzi Madonna Peppino Può fare anche il gommista Signori Il gommista Può fare Ok Montiamo le gomme 9,9 di zecca No ragazzi La macchina A me ce l'abbiamo Prevendo a 10.000 euro Eh A meno Peppino Qualche soldo Ce lo riprende Poi dobbiamo fare Anche la Equilibratura Delle gomme Fatto che Che qua non ci avevamo Le gomme A portata di mano Eh no Volendo ragazzi Questa macchina Mo so Pensate Questa macchina La possiamo fare normale Poi La prossima macchina Che andremo a depredare A fare qualche affare Nelle discariche Lo potremmo fare Anche in versione Tuning Ragazzi Quindi fatemi sapere Anche sotto nei commenti Se vi può Carbare Che Peppino Si mette in quel mondo Di tuning Ragazzi Quindi Ok Ok Gomma calibrata Vai con la prossima Eh Vi metti il piombo Ragazzi Perfetto Mettiamo il piombo Per Quando si montano Gomme nuove Col cerchio di nuovo Gli si dà La stabilizzazione Ok No Peppino Che sembra Usare anche Questi macchinari Con la tecnologia Superfina Quindi Eh perché Comunque D'oggi come gioco Ti devi imparare A fare tutto Ok Perfetto Ragazzi Montate Equilibrate Adesso ci andiamo A montare La corrozzeria Ragazzi Non gli vorrei fare Un Granché Perché anche Per risparmiare Qualche soldo Comunque Eh Vorrei risparmiare Qualche soldo Poi Andremo anche A provare A vedere pure Come si muove La macchina Eh perché Comunque La macchina Diciamo che Ormai È tutta nuova La macchina Tutta completamente Nuova quindi Poi faremo Anche un test Di compressione Cominciamo a usare Anche un po' di macchinari Un po' di attrezzi Prima di Effettivamente Fare un giro Di test Allora Sì perché Peppino Si è preso Sta briga Di fare sta cosa Oggi Allora Eh se no Raga Questo Quando la finiamo Sta macchina Eh la teniamo qua Allora Io La La voglio Un attimo Alzare Per vedere Se sotto Effettivamente Avevamo montato Tutto ragazzi Perché Non me lo ricordo Ma si Sta tutto montato Allora Perfetto Riabbassiamo Cominciamo a fare Un po' di test Di compressione Usiamo un po' di attrezzi La carrozzeria È un po' Da Da Riverniciare Però Ragazzi Allora Usa strumenti Vediamo un po' Scanner OBD Vediamo se tutto Funziona bene I pezzi sono tutti nuovi Con pesa batteria Componenti anche elettroniche Quindi guardate 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 100% Signori Bobbina in accensione Sì vabbè Ci avevamo messo Una che già ci avevamo Quindi vabbè Però ragazzi L'importante è che rimane sul verde Che non è O arancione o rosso Quindi va bene Vabbè Ragazzi Oh qualche pezzo Abbiamo anche recimolato Eh che cazzo C'è Questa fa la compressione Del carburante Al verde Signori Quindi Il carburante Compa il carburante Perfetto ragazzi Eh sì Stiamo cominciando a provare Un po' di cose Ok Test di compressione Vai Questo è molto importante Deve rimanere sul verde Ci siamo Ci siamo Ragazzi Perfetto Signori Che abbiamo qua Ah Vediamo un po' Scan elettrico Vediamo un po' Se Se tutto funziona Anche Che la corrente Passi bene Ragazzi Abbiamo fatto Il cablaggio nuovo Perfetto Ragazzi Tutto verde Peppino Maronna Ragazzi Abbiamo rimesso Questa macchina Al top Proprio Ok Funzionano tutti I relai La scatola Funziona tutto Guarda qua ragazzi Perfetto Allora Ragazzi La macchina E diciamo Possiamo chiudere il cofano La macchina Roba idraulica Motore Gomme Messo tutto Bella lavata all'interno E noi diamo una bella lavata fuori Ah Ragazzi Ah Ah Signori Ah Grazie Ah ah Grande Peppe Raga la macchina È completamente nuova Di zecca E questo Ce la possiamo Rivendere Quindi facciamo una cosa Allora Sposta l'auto Ehm Offici di verniciatura No Lo mettiamo Avanti al garage Perché mo ragazzi Ce l'andiamo a provare Allora Saliamo Accendiamo 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 l'auto Sto peggiottino Sto peggiottino Andiamo Andiamo qua Andiamo 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 a provare St'auto Ragazzi Vediamo un po' Testi Ragazzi Questa è stata Rimessa completamente A nuovo Nuovo tutta E vediamo se la possiamo Rivendere poi Ragazzi Si porta Si porta Si porta Vai 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 Ma ragazzi Si muove Si muove Frena Non è male St'a macchina Abbiamo fatto anche un test di guida Quindi Anche per vedere tutte le I componenti Se andavano giuste Ah Perfetto ragazzi Perfetto Allora Vediamo un po' Come vendere La macchina C'è Tablet No Interni aggiuntivi Io mo Non so come vendere Quest'auto Ah Scusa ma perché Questa era Era una No non era una Buongiorno Ah No scusatemi Ma questa Ma scusate Non era la Ah no Ma che cazzo sto dire Ragazzi Mamma mia Questa non era l'auto Sembrava l'auto Questa era Era di un cliente Perdonatemi Eccola Eccola E' questa nostra auto Che stavamo assemblando Eh infatti ho detto strano Ci mancava Mannaggia la miseria Mannaggia ragazzi Mannaggia Mannaggia Vabbè 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 cazzate di Di peppino Vabbè ragazzi Allora la macchina è pronta La possiamo consegnare Al Lo possiamo consegnare E ce lo siamo tolti dalle palle Allora adesso Ragazzi mettiamo Quest'auto E adesso Allora questa Sposta Sposta l'auto Comunque Comunque vabbè detto questo Allora ragazzi Votiamo un attimo La lista Perché adesso dobbiamo Cancellare Cancella proprio Tutta la lista E inventario Apriamo intanto Una cassa Vediamo un po' Che succede Scelgo questa Eh un'altra cassa E dammi un po' Di pezzi Di ricambio Apri un'altra cassa Eh si Mo facciamo un po' Di Spacchettiamo Un po' Ma per Ok Perfetto Allora ragazzi Ehm Queste Possiamo vendere tutto Se la vende proprio tutto Vendi 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 Tanto non ci servono Vendi Vendi E vendi Usa la mappa Ok Allora ragazzi Di esperienza Non siamo cresciuti Però di Cioè di livello Non siamo cresciuti Quindi però Vogliamo un attimo Andare a vedere Prima di cominciare Se no Abbiamo zero punti di abilità Quindi non possiamo fare niente Ehm Questo è cos'era Livello di negozio Aggiungi un campionario Di colori avanzati Avanzati Ah beh Questo raga Per il momento no Ehm Percorso di controllo Questo si potrebbe fare Banco di prova Si potrebbe fare Ma costa 20.000 euro Quindi Aggiungere in più Vabbè ragazzi Allora Cominciamo Dai Cominciamo a metterci A far qualcosa Allora Segniamoci questo Questo Poi Filtro dell'aria Questo Poi Questo 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 E questo Cominciamo a montare Piano piano E qua richiede un bel po' Di parti Quindi Turbo compressore E qua sono soldi E qua raga Spendiamo un po' Di soldi Ma non Ma non ci interessa Perché Noi dobbiamo Rimettere la nuova E venderla A sta macchina Ah la pompa ABS Dobbiamo andare là Queste due E Eh Eh Quase ne manco Per fortuna Un po' di sconti Ce l'abbiamo Ma Allora Turbo compressore Vai Cominciamo a rimontarlo Poi Mantiamo anche Il collettore Di aspirazione Tenere La roba Fuori Allora Cinghia serpentina E Eh Poi che ci serve Cioè Ci serve Cioè Il coperchio Non c'è Non ce l'ha Scusami Non è che siamo Scodati a montare qualcosa Servofreno Canale aspirazione Turbo compressore Eh Scusami Questo come Che fa Non chiude Eh Scusami C'è C'è qualcosa Che non va Signori C'è qualcosa Che non mi quadra Cioè Scusatemi Eh La testata del motore Non si deve montare Scusami Cioè Che fa Il motore è montato così Rullo Non ce l'abbiamo Quindi un rullo Dobbiamo comprare Un altro rullo No Un altro rullo Eh Ma mi sta venendo Un attimo un dubbio Che fa Non mi sta facendo montare Cioè Non mi sta facendo montare La La scatola Della testata Ma non so se È perché ci mancano Questi rulli Qua ci vuole Un'altra Cinghia Ah no Ecco Momo la fa montare Quindi ci vuole Copertura qua Eh sì Momo Ci vuole le coperture È vero Prima di lato Copertura Della distribuzione Ok Andiamo a mettere qua Ah Puleggio Olbera Gomiti Eh ragazzi Sì Momo qua Ogni cosa che andiamo a montare Ci vuole Ci vuole una cosa E qua ci vuole Un'altra Cinghia Che non ho Ok Sì Lo possiamo comprare Anche dal tablet La roba Effettivamente Vi c'entra sempre Al computer Però Vabbè Ormai Peppino Sembra che usa quello Allora Il ten di cinghia Tend di cinghia Sì Effettivamente Facciamo molto più veloci Rimaniamo qua Sì Possiamo anche far così Allora Tend di cinghia Ah ecco Come ci fa il coperchio Della testata Ecco ragazzi Qua secondo me Ci costa un bel po' Il coperchio Della testata Sono soldi Eh 200 euro Insomma Non è che Ve l'ho detto Non è che Ok Andiamoci a rimettere Qua Ok Ci possiamo rimettere Anche l'ho Quindi Il motore È montato Ragazzi Il motore Testata Cinghia Distribuzione Puleggie Pompere Montato Tutto Quindi la parte Diciamo Diciamo che la parte Diciamo che la parte Meccanica C'è il cuore Pulsante La macchina È fatta Adesso però Dobbiamo fare La cosa più Cominciamo a montare Anche la frizione Ragazzi Quindi il disco Della frizione Ovviamente La macchina deve essere Sollevata di più Eh Dobbiamo montare La frizione Quindi Disco della frizione Emo man mano Andiamo a comprare La roba Ok Disco della frizione Poi ci serve Questo non ce l'abbiamo Vero? Eh io controllo sempre Raga Prima di Prima di Comprare qualcosa Ok Così per la frizione Raga L'abbiamo a montare Poi Eh Boh sì che qua Manca ancora un sacco di roba Eh Mangano pure Le boccole Mangano una marea di roba Però Eh A meno A meno A meno ci cominciamo a togliere Un po' dalle scatole No Eh No Scusa ma Eh coperchio Scusa ma Non l'ho messo Aspetta Ok Non l'ho messo Eh Non riuscivo a trovare Ho detto Ma l'ho segnato o no? Mi sono scordato Il segnato Ok Scatola del cambio E qua Eh 800 euro Ragazzi Eh purtroppo sì Non possiamo fare altrimenti Così Pure il cambio È montato Albero Di trasmissione Motorino Di avviamento Questo Dobbiamo andare a comprarlo Questo qua Ok ragazzi Anche la frizione Col motorino Avviamento E con l'albero Eh Di trasmissione È montato Quindi Diciamo che la parte più difficile E le parti un po' più Costose Sono state fatte Quindi il motore Sotto È montato Adesso Dobbiamo cominciare A comprare La cremagliera Dobbiamo cominciare a comprare Un po' tutto questo Che ci serve Allora Io però ragazzi Direi di comprare Prima le boccole Perché le boccole Sono un po' Una rottura di scatole Da montare Quindi C'è no montare Perché che ne sonna frega Quello che è brutto Ne compriamo A meno una decina Che le boccole Ragazzi Non bastano mai Andiamo a montare le boccole Questo è per non far Sollecitare Il motore Questo Prende il motore Tiene Non lo fa muovere Prendono tutte le scosse Della strada Tutto quanto Le boccole Però questo Quando si arrovina E quando fa Nini La macchina Quando cicola Insomma Con le boccole di gomma Poi non tutte le macchine Le montano così Però Ok A meno Le boccole di gomma Qua ce le siamo tolte Adesso Cominciamo A montare L'impianto Idraulico Quindi Questo 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 Andiamo a fare Un pezzo alla volta Questo Questo Ok Andiamo qua Allora Barra Antirolio Uno Poi Cremaliera Vai Ammortizzatore Con Ma Va pure la molla Ok Allora Cominciamo a montare Questo E no Vedi Manca qua Cuscinetto Ammortizzatore Cuscinetto 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 Ok Perfetto Perfetto Come possiamo montare Già le due Due parti La macchina Allora montiamo Questo Perfetto Quindi Già Una prima cosa Ma ci serve Questo Poi Questo Quindi Andiamo qua Mozzo della ruota Estermità della ruota Ok Togli la lista Eh si Ci serve la lista pulita Man mano Che facciamo le cose Mettiamo questa Eh raga Sta macchina Richiede un bel po' Un bel po' Di lavoro Eh ma Fatto che macchina Non c'è niente Qua pure la carrazzeria Poi Allora Qua ci serve Cuscinetto Disco ventilato Quindi Cuscinetti Ne prendiamo due Non c'è la pure Per di là Disco ventilato Ne prendiamo due Eh raga Quello che possiamo Prendere due Ne prendiamo Poi Ok Ci serve anche questo Eh le pastiglie Eh un po' di roba Allora Questo ne prendiamo Due Pastiglie dei freni Ne prendiamo quattro Perché ce ne serve Per tutti i lati Anche Pinze dei freni Pinze Ah vabbè Pinze Ah pinze Del freno Vaffanculo Io pinze Dei freni Ho scritto Vabbè pure io Se prendiamo Quattro Pure questi Ah Giustamente Mo' ci serve Cilindro Della Cilindro Vabbè Facciamo cilindro 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 Eh prenderne anche quattro Ok ragazzi E' montata anche la pinza Del freno Mo' Questo Andiamo a montare pure questo Perfetto Adesso ci va la ruota Ma adesso No Mo' Continuiamo a montare Andare a montare anche di qua Eh si E' inutile Come andiamo a montare Eh Allora Vai Vai Vabbè qua ce l'abbiamo Ok Quindi andiamo Compriamo No Questa ce l'ho comprato Eh Questa Ok Ok Allora Cominciamo a montare Dai Ta 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 Vai vai Peppino Montiamo anche questa Questo già Questo l'avevamo comprato prima Perfetto Montiamo anche La sospensione A meno si comincia a tenere Da solo Ok Ehm Montiamoci questa Eh Guarda qua Una molla Mo' ci serve Poi ci serve Questo Allora Vai Mandiamo qua Tappo della molla Andando qua ci mettiamo una boccola Eh Non ci sono elementi in cui lavorare Eh raga dobbiamo ricompare anche le boccole Va bene Prendiamo Eh le boccole servono sempre Ok ragazzi Diciamo che La parte dietro già di una ruota È montata Mo' compriamo anche questo qua Così cominciamo a Concludere Una ruota alla volta Ragazzi Se no Macello qua Macello Quindi Mo' dobbiamo comprare Il mozzo Eh in tanti soldi ragazzi Guardate come soldi già abbiamo speso Eh si continua a spendere qua Eh il cuscinetti Mi sa che ce l'avevamo No Allora Cuscinetti Ne prendiamo due Sì perché A differenza dietro C'è davanti qua C'è bisogno del tappo Per chiudere Ragazzi Eh Pastiglie Che già Che già l'avevamo comprato Pinze dei freni L'avevamo comprati Ok E anche la parte dietro È montata Adesso Vabbè Ci va il tubo di scarico Eccetera 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 Ok Andiamo di qua E dobbiamo fare la stessa identica cosa Però prima di cosa Io ragazzi voglio pulire la lista Allora Ci serve Uno Due Tre Quattro Cinque Sei Per il momento Le boccole di gomma Ce le abbiamo Ce le possiamo già mettere E così a me ne appare Ok Tutta questa roba qua Ci serve Quindi Compra 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 E i soldi Se ne vanno Milioni Di milioni Allora Vai Mettiamo così Guarda quante boccole dobbiamo mettere qua Sì Sì Raga Mettiamo le mo Perché se no dopo ce le scordiamo Devo Devo pure controllare Se le abbiamo messe pure di là Ok Mettiamo pure qua Ah sì Il tappamolla Ma dopo Lo andiamo a mettere Andando Unciamo ad attaccare qua Ok Sospensiono Ok Allora Uh livello 17 Signori Siamo passati Livello 17 Sì Oh Eh qua Peppino Comincia a crescere qua Allora Eh questa è la molla Una l'avevamo comprata Ok Allora Abbiamo messo tutto Qua Ok Il mozzo Mi sa che due L'avevamo comprata Adesso Anche il cuscinetto Ce l'avevamo Disco Tappo Eh vediamo Ci abbiamo i pezzi Si va molto più spediti Ok ragazzi Anche la parte dietro Idraulica E montata Adesso Dobbiamo Controllare Se abbiamo messo tutte le boccole Eh vedi Tipo qua manca Perché dopo che succede Che poi non ci dà la macchina Ultimata Quindi quando si fanno queste cose Un restauro completo Una macchina da zero Controllate sempre meglio Allora raga Compriamo anche Il tubo di scarico A meno ce lo togliamo Dalle scatole Compriamo anche La pompa del carburante Quindi Questo Dotto di scarico Pompa del carburante Silenziatore E marmitta catalitica E marmitta catalitica Ok Allora Cominciamo Vai E va Così pure lo scarico È montato Ci mettiamo anche la pompa Del carburante Perfetto ragazzi Quindi la parte dietro È ultimata Anche con il serbatoio E scarico Possiamo Riabbassare l'auto Eh raga Già comincia a prendere forma La macchina Comincia a prendere forma Poi dobbiamo rimettere le ruote Tutti liquidi La carrozzeria Ovviamente che non c'è niente Anche dentro non c'è niente Quindi Un po' un casino Vabbè ragazzi Io mi fermerei qui Per questo episodio Mi fermerei qui Raga Abbiamo avuto un po' di confusione Però abbiamo anche consegnato Una macchina al cliente Quindi Perché le macchine sono E uguale Mi ero confuso Perché noi avevamo Sopi i mattoni fuori La macchina Quindi Ragazzi Grazie ancora Auguri di buona Pasqua A voi e alle vostre famiglie Ragazzi Qui Peppino vi saluta Vi auguro Buona Pasqua a tutti Ragazzi Spolliciate in su Cosa vi è di questo video Iscrivetevi al canale Attivate la campanellina Per non perdere mai nulla In descrizione Tutti i link ragazzi Sono gratuiti Non vi costa nulla Ragazzi Imbecchiamo nei prossimi video E like Che ho ricominciato anche a fare like O M200 Diablo Quindi non mancate Ragazzi Detto questo Un mega bacio Alla prossima Ciao a tutti ragazzi Grazie a tutti